Un crimine così efferato che all'arrivo delle forze dell'ordine quello scenario aveva fatto pensare all'utilizzo di un'arma da fuoco. Maxim Shernish, 25 anni, ucraino, è stato arrestato nell'immediato. Si era nascosto nel locale contatori di una palazzina in via dei Pretuzzi, a poche centinaia di metri dalla casa del duplice, omicidio in via Tibullo. A morire madre e figlio di origine polacca, lui, 23 anni, Arkadius Mitzka e la madre Cristina di 56, a monte del litigio sfociato in tragedia, debiti di droga, pare infatti che l'assassino dovesse dei soldi alla vittima. Sembrerebbe una lite nata lì sul momento, l'intenzione sua non è stata quella di andare lì per uccidere, questo sembrava quantomeno acclarato. È nata una discussione, stiamo verificando effettivamente i motivi di questa discussione che sembrano riconducibili a questioni inerenti agli stupefacenti, a partite non pagate. Da lì la cosa è degenerata, si è passata alle vie di fatto, si è passato poi all'uso delle armi e stiamo verificando esattamente come sono andate questi fatti. Secondo le dichiarazioni di Maxim Shernish, i due si trovavano insieme perché la vittima da qualche tempo ospitava in casa il suo assassino, in attesa di trovare un altro alloggio. I due stavano aggiustando un computer e avevano appena assunto droghe, entrambi la vittima aveva assunto eroina, mentre l'assassino Marioana. L'assassino ha dichiarato che entrambi avevano assunto droghe ieri pomeriggio. Questo ha sicuramente contribuito ad alterare la normalità dei comportamenti, solo questo del resto può spiegare tanta efferatezza, soprattutto nei confronti della madre che era estranea alla diritta iniziale e si è trovata a subentrare sulla scena del crimine in un secondo momento. Cristina Mitzka è morta per essere arrivata a casa del figlio nel momento sbagliato. La donna infatti si recava quotidianamente in via Tibullo per occuparsi delle pulizie in casa del figlio. Probabilmente al suo arrivo ha sorpreso l'assassino nel corso del delitto. La donna, a differenza del figlio, ucciso con un numero impressionante di coltellate, è stata uccisa con una mazza da baseball in un secondo momento. Due sono stati coltelli ritrovati, uno all'interno della casa e uno lo portava con sé l'assassino. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la provenienza di quello ritrovato insieme a Cernish, poiché non sarebbe compatibile con quelli ritrovati nella casa di via Tibullo. Dopo il primo fermo è stato portato in ospedale per ferite riportate alla mano? Sì, ha delle ferite molto serie alle mani, soprattutto a quella sinistra, dei tendini recisi. Probabilmente nei prossimi giorni dovrà anche essere sottoposto ad un intervento chirurgico. sembrerebbero delle lesioni da difesa. La sacca ritrovata nei pressi della caserma di Cocco conteneva abiti e la mazza da baseball insanguinata. Inizialmente si pensava un omicidio premeditato, ma pare che fossero tutti oggetti appartenenti alla vittima. Visto che i due avevano già una frequentazione pregressa, non sembra che il motivo della visita di questo ucraino a casa del ragazzo polacco sia stato per un regolamento di conti. Questo dovrebbe essere nato successivamente. Fondamentale per l'intervento congiunto tra carabinieri e polizia è stato l'aiuto di due testimoni, la vicina di casa per ritagliare all'ora del delitto e un giovane con il suo cane per il ritrovamento del borzone. È stato trovato dentro una stanza con dei contatori. La porta non era forzata, ha aperto lui? Sì, ha aperto lui. È il primo locale che ha trovato in cui rifugiarsi. Era molto spaventato e molto scioccato da quello che era successo. Ha aperto lui alle forze dell'ordine? Abbiamo fatto irruzione noi e l'abbiamo bloccato a terra. Le indagini dopo l'arresto proseguono con la competenza dei carabinieri di Pescara.